È stata una pipì da record. Ho incontrato il dottor House e ha chiesto un consulto chirurgico per la sua paziente. House non chiede mai un consulto. Beh, per questo caso gli serviva un po' d'aiuto. Il primo giorno di tirocinio chirurgico vuoi essere prestata a un altro reparto. Bella mossa per la tua carriera. Lascia il modulo nel mio ufficio e non stare via troppo. Sto già iniziando a dimenticarmi di te. Cosa ne dite se vi porto tutte e due a bere qualcosa? Mi piacerebbe. Ma ti considero un cretino? E lei non va in un bar dai tempi del corso di ballo? Non ho mai fatto... Ah, scherzavi. Io faccio qualche altro test alla paziente di House. C'è un valore di laboratorio che non mi convince. Sei tornata con House? Solo per questo caso, non rimango. Ucciderei per poter lavorare con lui. Adesso ti scuoio e mi travesto con la tua pelle. Chè. No, no. No, no. No, no.